Mi chiamo Massimo Urban, ho 12 anni, quasi 13, compio ad aprile e vivo a Varedo che è una cittadina vicina a Milano, però è in Monza Brianza. Secondo me è molto importante suonare uno strumento perché l'utilizzo è proprio sfogarsi e regalare musica anche. Ho provato a imparare pianoforte perché era uno strumento che mi piaceva. Ho iniziato quando ero in seconda elementare a 7-8 anni circa. È un sacrificio perché al posto di studiare si possono fare mille altre cose, per esempio giocare, come fanno tutti i bambini della mia età, giocare ai videogiochi. Ma invece io studio. E invece è un divertimento perché studiando hai una tecnica diversa delle mani, puoi studiare nuovi pezzi che poi ti diverti a suonare, fai nei concerti e quindi regali musica. E ti diverti anche appunto a suonarli durante le esibizioni. Fisicamente mi vedo un po' più alto perché adesso sono un po' basso per la mia età. Mi piacerebbe un sacco fare il pianista, di sicuro. Di altri lavori non me ne vengono in mente, ma il pianista secondo me è il lavoro che preferisco in assoluto. Per me pianofrenza è qualcosa che mi fa imparare e mi aiuta anche a migliorarmi grazie alla professionalità del maestro Vincenzo Balsani di Katia Iglesias. Inoltre mi fa instaurare amicizie di persone che suonano il mio stesso strumento e mi fa fare la cosa che mi piace fare in assoluto, cioè suonare pianoforte. Ho due amici del quale di pianoforte, oltre a Claudia e a Francesca, anche Giacomo Corbetta, con cui mi diverto a giocare ai videogiochi, a giocare a tennis, a calcio. E anche mi diverto a fare pezzi a quattro mani, a volte. Poi anche Giada, con cui le scrivo praticamente ogni giorno e ci divertiamo a dirci tutti i nostri avvenimenti scolastici. Grazie a tutti.